Nella Messa di Natale, appello del Papa contro la violenza nel nome di Dio e per la pace in Medio Oriente. Al posto degli armamenti per la guerra, subentrino aiuti per i sofferenti, le parole del Pontefice, nella Basilica di San Pietro. A largo della Nigeria, attaccato da un gruppo di uomini armati, il rimorchiatore d'altura italiano Asso 21, rapiti tre nostri connazionali e un marinaio ucraino, l'unità di crisi della Farnesina, in contatto con le autorità nigeriane per risolvere il caso. Vertice dei leader del nuovo centro, Montezemolo, Riccardi, Casini e Cesa hanno espresso piena sintonia politica con l'agenda di Monti e hanno deciso di rimettersi alla sua decisione sulla scelta tra una lista unica o più liste federate. Intanto nel PD è polemica per l'addio ai democratici del senatore Echino. E c'è un nuovo attacco di Berlusconi a Monti dagli schermi televisivi. La sua agenda è solo tasse, un voto a lui è sprecato. Il Cavaliere insiste nella promessa di abolire l'Imu. Schifani si schiera con lui nella linea antimontiana. Le parole contro Berlusconi erano fuori luogo, dice il Presidente del Senato, mentre nel partito cresce la trazione verso i centristi. Buongiorno dal telegiornale, buon Natale. Un Natale che arriva al termine di un anno di difficoltà economiche anche per tanti italiani. Ai poveri e ai migranti si è rivolto il Papa ieri sera nella preghiera di Natale. Benedetto XVI ha lanciato anche un appello alla pace. Basta la violenza nel nome di Dio. Le parole appunto del Papa che ha aggiunto al posto degli armamenti per la guerra subentrino aiuti per i sofferenti. Il Pontefice ha anche invitato i fedeli a pregare per la pace in Siria e tra israeliani e palestinesi. Basta con la violenza in nome di Dio. Il Signore illumini le persone che credono di dover esercitare soprusi e violenze in suo nome. È questo uno dei passaggi dell'Omelia del Papa durante la Messa di Natale. Un'Omelia nella quale Benedetto XVI ha voluto ricordare come Maria e Giuseppe arrivarono a Betlemme e cercarono un luogo caldo, la mangiatoia, in cui deporre il bambino Gesù. Parte così dal racconto evangelico la riflessione del Pontefice sul mondo che, dice, non ha più posto per i deboli, i profughi, i rifugiati, i migranti, gli stranieri, i poveri, i bambini e li respinge così come ha respinto Gesù. E dato che dove non si dà gloria a Dio non c'è neppure pace, il Papa rivolge un appello al Signore proprio contro la violenza. Fa che anche oggi le spade siano forgiate in falci, che al posto degli armamenti per la guerra subentrino aiuti per i sofferenti, in particolare per chi vive e soffre nella terra di Gesù, perché israeliani e palestinesi possano sviluppare la loro vita nella pace dell'unico Dio e nella libertà per la pace in Libano, in Siria, in Iraq, perché in Medio Oriente possano cessare le violenze. Nella Basilica di San Pietro, piena di fedeli, Benedetto XVI invita ciascuno a interrogarsi sul racconto dell'evangelista Luca. Inevitabilmente sorge la domanda su come potrebbero andare le cose se Maria e Giuseppe bussassero alla mia porta. Ci sarebbe posto per loro? Giovanni, nel suo Vangelo, ha approfondito all'essenza la questione. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. Ecco il punto, spiega il Papa. Così la grande questione morale su come stiano le cose da noi riguardo ai profughi, ai rifugiati, ai migranti, ottiene un senso ancora più fondamentale. Abbiamo veramente posto per Dio quando Egli cerca di entrare da noi? Dio ha veramente un posto nel nostro pensiero? Siamo completamente riempiti di noi stessi, dice Ratzinger, così che non rimane alcuno spazio per Dio. E per questo non c'è neppure spazio per gli altri, per i bambini, per i poveri, per gli stranieri. E a Betlemme un grande abete al centro della piazza La Illumina, la piazza della Mangiatoia, ma in Terra Santa oggi è un Natale davvero speciale. A novembre infatti le Nazioni Unite hanno riconosciuto la Palestina come stato osservatore, ricorderete. Non solo a giugno la cittadina appunto della Cisgiordania, Betlemme, culla della cristianità, è stata classificata dall'UNESCO come Patrimonio Universale dell'Umanità. Il patriarca latino di Gerusalemme, Monsignor Fuad Tual, la più alta autorità cattolica in Terra Santa, è arrivato appunto questa notte scortato da bande musicali. Prima la processione, poi la Messa della Mezzanotte, celebrata nella Basilica della Natività, partecipano il presidente palestinese Abu Mazen, il primo ministro Salam Fayyad, e il primo ministro degli esteri giordano Nasser Juhaed. In questo Natale così speciale almeno 12.000 pellegrini hanno ascoltato Monsignor Tual, che ha definito il voto delle Nazioni Unite un passo importante verso la pace e la stabilizzazione della regione. E allora, adesso la politica italiana e forse il clima natalizio ha dato una mano, ma dopo le frecciate e le incomprensioni dei mesi e giorni scorsi, il centro nel nome di Monti sembra aver trovato l'accordo, la soluzione per stare tutti insieme. Il dubbio rimane sulla forma. Due le possibilità, lista unica o federazione di liste. Nel PD intanto si è aperto un fronte polemico, lo ha aperto l'uscita del gius lavorista Ichino, che appunto va al centro. Mario Monti li ha chiamati politici professionali, distinguendoli dagli esponenti del mondo imprenditoriale della società civile. Il professore ha voluto esprimere da loro una certa lontananza, ma allo stesso tempo di loro non potrà fare a meno. Casini dice che la plastica non se la può fare, ma intanto l'elogio di primo sostenitore del governo tecnico da parte di Monti lo ha già incassato. Ed è sull'equilibrio tra questi due mondi di provenienza che si definirà la lista che intorno al nome di Monti è in via di definizione. Il vertice di ieri è stato il primo passo. Da una parte Montezemolo, primo firmatario del manifesto verso la Terza Repubblica, e Riccardi, l'ex ministro, che di Monti sembra fare in qualche modo da portavoce da una parte, dall'altra Casini e Cesa dell'Udc. E se il cosa è già assodato, Monti, Monti e Monti, è sul come che ancora si deve decidere, a cominciare dalla forma con cui presentarsi alle elezioni. Lista unica o più liste federate. Problemi tecnici, ma anche alla fine di nomi. Perché la questione, anche in casa centro, è alla fine la stessa, su cui sono chiamati a ragionare tutti i partiti, sembrare meno politici possibile. E proprio Monti, il cui nome resta un po' come quello di Grillo, lontano a cementare e simboleggiare la nuova costituenda formazione, spetterà alla fine scegliere il profilo finale da sottoporre agli elettori, cui molti potrebbero guardare per usare le sue stesse parole come una zattera di salvataggio. Non una zattera su cui trovare estrema salvezza, ma una barca sulla quale trasferirsi, così l'ha già considerata Pietro Ichino, protagonista del primo rumoroso urto Monti-Bersani, il cui passaggio nell'universo centrista è stato in qualche modo anticipato dalla comparsa del suo nome nell'agenda Monti pubblicata in rete e accompagnato da polemiche provenienti proprio dai democratici. A cominciare da Orfini, della segreteria, penso che gli elettori delle primarie meritino una spiegazione. E la spiegazione Ichino la fornisce così. Nessun giallo, replica, è tutto trasparente. Ho scritto a settembre un testo che coincide con quelli di Monti, ma perché fosse proprio del PD. Che lui fosse il braccio liberista della bilancia economica del partito e che il suo pensiero fosse inconciliabile con l'altro braccio, Fassina, che ufficialmente ne è irresponsabile, si sapeva, ma ora a incarnare il pensiero sono arrivati fatti. Un principio di chiarezza in vista della scadenza elettorale. E non si è fermata nemmeno alla vigilia di Natale l'offensiva televisiva di Berlusconi, sempre contro Monti, accusato, colpevole secondo Berlusconi, di non conoscere i conti dello Stato. Toni accesi quelli del Cavaliere, che rispolvera ancora una volta il vecchio cavallo di battaglia, e cioè l'abolizione della tassa sulla casa. L'Imu si può togliere, assicura appunto Berlusconi. La cena della vigilia di Natale in famiglia, d'Arcore. Persilio Berlusconi una serata tranquilla dopo la maratona quotidiana e a tappe forzate in tv di questi ultimi giorni. L'ultima ieri, dagli studi milanesi di Mediaset. Il Cavaliere continua ad attaccare Monti, che durante la conferenza stampa di fine anno aveva detto di non riuscire a capirlo. Nel suo contrattacco, Berlusconi se la prende con i centristi e parla dell'ormai ex-premier come di una stampella della sinistra. I voti dati a Monti, a Casini, a fine a Monti e Zemono, saranno soltanto dei voti per la sinistra. Allora tanto vale votare il Partito Democratico. E lo dico a tutti coloro che avessero l'intenzione di dare un voto lì. È un voto non solo sprecato, ma dannoso per il Paese, dannoso per se stessi. È quindi sul voto utile che Berlusconi punta, perché la presenza di un centro guidato da Monti alle prossime elezioni potrebbe, a suo giudizio, sottrarre voti al PDL e sancire la vittoria del centro-sinistra. Le preoccupazioni del Cavaliere sono confermate da sommovimenti interni al Popolo della Libertà. Alcuni dirigenti, non è un mistero, si stanno avvicinando al nuovo centro montiano. Franco Frattini e Giuliano Cazzola hanno già annunciato l'addio. Alfredo Mantovano e Mario Mauro sono con un piede fuori. Il rischio è un effetto valanga, ma il Cavaliere minimizza. In questi momenti che vengono prima della data delle elezioni, ciascuno fa, soprattutto di coloro che sono professionisti della politica, i conti di dove gli conviene di stare per avere la sicurezza di essere eletto. Però, per quanto riguarda il Popolo della Libertà, io sono assolutamente sicuro che se ci sarà uno, due o tre eccezioni, saranno veramente delle eccezioni numericamente molto contenute. A difendere il leader del PDL ci pensa il Presidente del Senato. Fuori luogo gli attacchi di Monti nei confronti di Berlusconi, dice Renato Schifani, mi era augurato che la campagna elettorale si misurasse sui contenuti e non sugli attacchi personali. All'uscita dagli studi di Milano II, Berlusconi poi scherza. Si ha fatto altri incubi? Ho solo sogni belli. No, però la prossima volta che la incontro gliene racconto qualcuno. Per adesso no. Sono ancora nelle mani dei rapitori i quattro marinai, tre italiani sequestrati domenica scorsa a largo della Nigeria. l'attacco al rimorchiatore italiano Asso 21 è avvenuto davanti la costa, esattamente la costa dello stato petrolifero di Bayelsa dove sono frequenti gli atti di pirateria. I quattro starebbero bene ma per ora non si hanno dettagli su possibili richieste di riscatto. Viaggiano a bordo di barchini veloci, sono ben armati e molto determinati. Sono i pirati del delta del Niger. È stato un comando come questo, sembra composto da sette uomini, ad attaccare domenica sera la nave Asso 21 della compagnia offshore di Napoli. Dopo essersi impadroniti dell'imbarcazione gli uomini del comando con ogni probabilità nigeriani hanno obbligato l'equipaggio a riunirsi sul ponte poi hanno intimato di dirigere la nave verso la costa dove c'erano due scafi che li attendevano. A questo punto hanno fatto scendere il comandante della nave Emiliano Astarita 37 anni di piano di Sorrento insieme ad altri tre uomini due di loro italiani prima di ripartire i sequestratori hanno detto che si sarebbero fatti vivi per concordare le condizioni del rilascio non ci sarebbero stati feriti la conferma del sequestro è stata data dall'ufficio internazionale marittimo di Lagos la marina nigeriana sarebbe già impegnata nelle operazioni di ricerca il sequestro è avvenuto domenica sera a largo delle coste della Nigeria circa 40 miglia nautiche dal delta del Niger l'attacco è scattato intorno alle 8 l'asso 21 della compagnia Augusta offshore di Napoli opera in molti paesi del mondo e non è la prima volta che una nave della compagnia si trova coinvolta in un sequestro un'imbarcazione gemella era stata sequestrata in Libia nel 2011 l'unità di crisi della Farnesina è già a lavoro insieme alle autorità nigeriane con il sequestro dei tre marinai italiani da parte dei pirati a largo della Nigeria salgono a cinque i connazionali nelle mani dei rapitori nel mondo oltre all'equipaggio dell'asso 21 gli altri due italiani sono l'ingegner Mario Belluomo 63 anni di Catania rapito in Siria lo scorso 17 dicembre e il cooperante Giovanni Loporto 38 anni palermitano sequestrato il 19 gennaio dell'anno scorso da un gruppo di talebani in Pakistan le inchieste sulla sanità in Puglia Sandro Frisullo ex vicepresidente PD della regione è stato condannato a due anni e otto mesi dal tribunale di Bari condannato a quattro anni e tre mesi anche Gianpaolo Tarantini l'imprenditore barese coinvolto nell'inchiesta sulle escort portate nelle residenze dell'allora presidente del consiglio Berlusconi secondo i magistrati Frisullo avrebbe aiutato Tarantini ad ottenere appalti per 5 milioni di euro nel settore sanitario tra il 2007 e il 2009 in cambio avrebbe ottenuto più di 200 mila euro regali di ogni genere e prestazioni sessuali da parte di tre ragazze a pagamento gli italiani per risparmiare hanno scelto di stare a casa per la cena il pranzo di Natale il dato emerge da un'analisi dei consumi commissionata da Coldiretti bene per quanto riguarda il turismo le località sciistiche quasi vuote raccontano questi dati le città d'arte agli italiani toccate tutto ma non il cenone pranzo di Natale all'insegna della tradizione una prima indagine della Coldiretti rivela come sulle nostre tavole per le festività natalizie i prodotti made in Italy saranno protagonisti di piatti ricchi e golosi alla faccia delle diete e dell'austerity gli italiani si riscoprono fedelissimi al cotechino più 8% alle lenticchie più 14% alla frutta di stagione più 15% allo spumante più 20% crollano invece le mode più esterofile del passato pagate a caro prezzo come la frutta fuori stagione il caviale o lo champagne così il 59% degli italiani porterà in tavola prodotti nostrani il 23% cibi locali o a chilometri zero l'11% prodotti biologici mentre il 18% guarderà le offerte all'abbasso prezzo quasi un miliardo di euro sarà speso per acquistare il pesce durante le festività del Natale l'assalto ai mercati rionali le lunghe code ai supermercati nonostante i prezzi del cibo siano aumentati rappresentano un vero calcio all'austerity per ragioni di gola rinunciare a regali poco utili si può meglio saziarsi di cibi e bevande consumati a tavola dal cenone della vigilia fino a capodanno 9 italiani su 10 circa il 92% trascorreranno le festività a casa con parenti o amici spendendo un 10% in più dello scorso anno gli italiani al richiamo della tavola non resistono e si sa ed è incoraggiante anche il dato dal quale si evidenzia che appena il 3% andrà al ristorante o in trattoria mentre l'1% si recherà in agriturismo al peccato di gola non si comanda meglio il trionfo di una tavola ricca piuttosto che regali inutili e costosi e per Babbo Natale meno peso del solito sulle spalle sotto l'albero trionfo nei libri e un regale più piccoli ma non mancano le contraddizioni nonostante il peso dell'IMU o delle tasse per qualcuno il fascino del regalo griffato resta un'abitudine a cui non si può rinunciare è Natale nel mirino del fisco per il social network Facebook dalla Gran Bretagna arriva l'accusa la società che registra profitti miliardari evade sistematicamente le tasse e adesso sarebbe fin troppo facile e scontato dire che anche Facebook è finito nella rete come Google come Apple fenomeni di internet giganti del profitto e a quanto pare irraggiungibili gazzelle per il fisco di mezzo mondo forse però la corsa ai profitti miliardari esentasse è arrivata al capolinea anche se c'è da scommettere fior di avvocati si stanno mobilitando per dimostrare che no non è vero che le multinazionali 2.0 si arricchiscono anche alla faccia delle agenzie e delle entrate e il Sunday Times a scrivere che Facebook non paga le tasse in Gran Bretagna grazie a una scappatoia che permette alla società di Zuckerberg di spedire il denaro alle isole Cayman paradiso naturale e fiscale dei Caraibi il meccanismo è semplice le aziende oltremanica che acquistano gli spazi pubblicitari sul celeberrimo social network devono rivolgersi alla fieliale irlandese che ovviamente non risponde né al fisco britannico né ad altre giurisdizioni a regime fiscale più alto in Irlanda il denaro è solo di passaggio la destinazione finale sono le Cayman e con questo sistema sempre secondo la stampa inglese lì sarebbe finito oltre mezzo miliardo di euro un meccanismo disonesto e immorale per i laburisti londinesi usano le infrastrutture della rete internet britannica ma non tirano fuori un centesimo per consolidarla dicono ed è come andare in giro su un'automobile senza pagare il bollo ben più rilevante secondo Bloomberg è il bottino si può proprio definire così di Google il sistema è scogitato è stato definito sandwich olandese c'è la sede irlandese della società di Mountain View una controllata olandese e una sede fiscale alle Bermuda altro paradiso dove finisce tutto il denaro al punto che su una stima di 12 miliardi e mezzo di entrate in tutto il mondo Google avrebbe denunciato utili per appena 24 milioni di euro un po' pochi per la verità in un momento in cui le finanze pubbliche dei paesi dove Google macina profitti sono in grande difficoltà così la Francia vuole quasi 2 miliardi di euro di tasse luse Inghilterra e Germania sono già partite lancia in resta e anche l'Italia lamenta tra il 2002 e il 2006 260 milioni di fatturato non contabilizzato e 96 milioni di euro di IVA non versati la lista sarebbe ancora lunga anche Apple e Amazon usano strategie di pianificazione fiscale che si muovono sempre sulla linea sottile che divide la legalità dall'evasione fiscale serve un piano di azione internazionale si sta muovendo l'Ox e la comunità europea intanto loro i big della rete continuano ad andare in auto senza aver pagato il bollo in Siria c'è stato un nuovo attacco aereo contro persone che erano in fila per comprare il pane dopo la strage di domenica dal Faya questo attacco è avvenuto vicino Oms l'opposizione accusa il regime sono stati i terroristi la replica governativa le conferme certe ancora non ci sono ma è concreto il timore che davvero il regime siriano abbia iniziato ad usare armi chimiche nella guerra civile in corso da 20 mesi la notizia diffusa ieri del fronte di opposizione al presidente Bashar Assad arriva da Oms una delle tante roccaforti della ribellione ad avanzare il sospetto che sia stato usato un gas letale molto simile al Saren sono alcuni medici del posto gli stessi che hanno certificato la morte di 7 persone per problemi anzitutto respiratori altre 10 persone sarebbero rimaste intossicate poche ore dopo nella subborgo di Al-Baiyada sempre nell'area di Oms se confermata la notizia potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque nella crisi siriana la comunità internazionale infatti Stati Uniti è nato in testa da tempo avvertito il regime siriano che l'uso di armi chimiche non sarebbe tollerato e potrebbe aprire la strada ad un intervento militare per proteggere la popolazione due giorni fa il regime siriano quasi negando di essere in possesso di armamenti non convenzionali garantiva che comunque mai gas letali sarebbero stati usati sulla popolazione mentre ieri anche la Russia più che un alleato della Siria nella crisi in corso e in genere nella storia giudicava come un suicidio politico l'eventuale utilizzo del sarin e di altri gas velenosi nel conflitto in corso e intanto nel paese i civili continuano a morire mentre cercano di trovare da mangiare 48 ore fa e 94 morti della strage del pane di Yalfaia ieri sempre vicino a Homs e sempre in fila avanti a un forno sono morte altre 15 persone vittime anche queste di un raid dell'aviazione siriana sul fronte diplomatico intanto si è conclusa con un sostanziale nulla di fatto la visita a Damasco e dell'inviato speciale dell'ONU l'Aqdar Barahim è ricevuto ieri da Bashar Assad presidente siriano che mira a restare in carica almeno per un altro anno la guerra quindi è destinata a continuare per far tacere le armi infatti l'opposizione vuole prima l'uscita di scena del race di Damasco le notizie dello sport adesso fermo il campionato per le feste di fine anno non mancano però appunto notizie quelle di calcio mercato e allora in prima linea c'è sicuramente il Milan tra cessioni eccellenti e la ricerca di acquisti di valore e poi da Napoli arriva la notizia del presidente dell'Aurentis che dice ho blindato Cavani rifiutando 55 milioni di euro non è una novità che a Natale bisogna essere tutti più buoni e allora il presidente del Napoli dell'Aurentis fa sapere di avere un cuore d'oro il suo mega regalo ai tifosi è rifiuto ad un'offerta di 55 milioni di euro per Cavani il guerriero del Napoli niente nomi niente dettagli basta questo per rilanciare la voglia di fare un Napoli sempre più competitivo che non può prescindere dal Matador interventi decisi sul mercato a gennaio stradecisi a giugno nell'immediato c'è soprattutto la necessità di tamponare la squadifica di Cannavaro in difesa piace Silvestre che non trova spazio nell'Inter girano anche i nomi di Neto del Siena e Andreoli del Chievo le due milanesi preparano il restyling per ripartire con più slancio Adriano Galliani sta lavorando in Brasile per cedere Pato e Robinho e monetizzare così risorse per qualche colpo per Robinho resta l'interesse del Santos ma sta prendendo quota ieri il dirigente rosso-nero si è lasciato sfuggire un è possibile per la scelta di un nuovo attaccante sembra non ci sia nessuna possibilità di arrivare a Balotelli mentre c'è la voglia di provare l'ingaggio di Drogba Livoriano vuole chiudere l'avventura in Cina ma ci vorrebbe uno sforzo del giocatore per ridursi l'ingaggio pesante vuole correre ai pari anche l'Inter che cerca un vice milito e potrebbe averlo individuato in Borriello tra Inter e Genova c'è però la Roma che detiene il cartellino del calciatore e potrebbe non essere d'accordo a rinforzare una concorrente per la Champions e comunque il destino di Borriello sembra legato al compagno immobile anche lui potenzialmente con la valigia pronta nessuna possibilità per i nerazzurri di arrivare a Bobbadiga il centravanti argentino dello Young Boys che ha fatto sapere di voler restare in Svizzera per l'Inter ogni operazione in uscita è legata alla gestione di Sneijder che appare sempre più complicata ci sarebbe l'attenzione dei tedeschi dello Schalke che hanno appena rinnovato il contratto al connazionale Huntelar che lo sta caldeggiando ma resta al problema dei 6 milioni di ingaggio il più bel regalo di Natale per la Roma ai suoi tifosi è stato il ritorno in campo da titolare di Daniele De Rossi il primo acquisto per il 2013 probabilmente De Rossi è riuscito a far cambiare opinione a Zeman che sta rivedendo alcune posizioni tattiche il futuro di Mourinho sicuramente non sarà a Madrid dove ormai Enzo è operato in casa potrebbe prendere il posto di Ancelotti a Paris Saint-Germain o tornare in Inghilterra e per sostituirlo a Real spunta sotto l'albero il nome di Marcello Lippi e allora per gli aggiornamenti vi ricordo il sito tgla7.it dopo la pubblicità ci sono le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona prossima edizione del telegiornale è quella delle 13.30 e a questo punto a nome della redazione non mi rimane che augurar ancora una volta Buon Natale